Mascherine chirurgiche, tute sterili di protezione, guanti disinfettanti, spray igienizzanti sono stati donati dall'Aipam, l'Associazione Italiana Pazienti con Malattie Mieloproliferative e gli ospiti della Casa Circondariale di Contrada Balate a Gela. I dispositivi sanitari sono stati consegnati a nome dell'Associazione dal responsabile nazionale delle relazioni esterne Giacomo Giurato, alla direttrice della Casa Circondariale Cesira Rinaldi. L'intento è quello di mostrare un segno di solidarietà a chi vive tanto una situazione di isolamento quanto una situazione di maggior rischio. Aipam è una selezione di pazienti che ha sede presso l'istituto del Policlinico San Matteo di Pavia e abbiamo voluto omaggiare l'istituto con questi dispositivi perché anche noi come pazienti abbiamo vissuto questo lockdown in maniera molto pesante e abbiamo pensato che così come l'abbiamo vissuta noi in isolamento pensare ad altri che questa situazione la vivono tutti i giorni quindi abbiamo pensato agli ospiti di questo istituto. Volevamo così mostrare il nostro la nostra solidarietà la nostra generosità attraverso questo piccolo gesto che poi alla fine un piccolo gesto per dire che ci siamo anche noi noi non abbiamo pensiamo a tutti non abbiamo lasciato trascurato nessuno e attraverso questo gesto vogliamo far capire che Aipam era presente anche se sono la sede a Pavia ma qui in Sicilia ci siamo anche e nella nostra città questo era un segno importante. Un gesto concreto di solidarietà nei confronti degli ospiti dell'istituto molto apprezzato dalla direttrice. Da prescindere da quanto possa essere piccolo o grande un gesto ciò che conta è la qualità la qualità della donazione del pensiero perché in un mondo come questo in un posto come questo dove il contatto con l'esterno è la cosa principale anche la più piccola manifestazione ha un significato enorme quindi ringrazio loro per questo. Non sono stati giorni semplici quelli dell'emergenza per le strutture carcerarie quella gelese ha tenuto botta riuscendo a mantenere ordine e serenità durante i giorni più difficili. Abbiamo collaborato in maniera stretta per portare avanti in ogni caso quello che erano le attività finché le abbiamo potute fare. E poi con un supporto e una solidarietà costante tutti quanti abbiamo avuto dei momenti difficili anche per quanto riguardava la possibilità dei presidi ma una volta arrivati i presidi una volta riusciti a come possiamo dire a carburare la situazione siamo riusciti appunto a gestirla fortunatamente non si è registrato alcun caso qui né tra il personale né tra i detenuti e questo quindi ci ha fatto andare avanti con fiducia nella consapevolezza che forse le misure adottate erano quelle che servivano per questa realtà. Un rientro alla normalità lento e graduale che sta consentendo pian piano gli ospiti di riprendere le tante attività all'interno della struttura tra cui anche la celebrazione della messa come ci racconta fra Emanuele Artale e Cappellano di Balate. Abbiamo cambiato modalità di azione nel senso che ci siamo affidati ai cellulari alle stanze virtuali e tramite questo abbiamo celebrato messa anche in questo modo. Non abbiamo assicurato la canonicità del sacramento siamo andati oltre la forma giuridica però nella sostanza siamo stati vicini allo stesso modo vicino alla gente e non abbiamo fatto mai mancare Gesù in mezzo a noi.